Un'altra casa a luci rossa è stata individuata dalla polizia nel centro storico di Ragusa a distanza di meno di due settimane da un'altra chiusura. Ancora una volta sono stati i cittadini a riportare la segnalazione alle forze dell'ordine. I poliziotti si sono così appostati in via Mazzini. Dall'abitazione indicata è stato notato uscire un uomo che è stato prontamente fermato e identificato. Una donna in abiti succinti in un primo momento scambiando per clienti i poliziotti li ha invitati ad entrare per non dare nell'occhio. Il cliente ragusana ha confermato di aver consumato il rapporto sessuale a pagamento per la somma di 50 euro. La donna di origine cubane di 35 anni ha confermato di esercitare la prostituzione in quella casa, presa in affitto da una sua amica che le aveva lasciato l'uso della stessa da pochi giorni e di non conoscere il proprietario dell'immobile. Il cliente ha riferito di essere sposato e di voler evadere dalla routine matrimoniale e che ogni tanto, grazie ad un quotidiano locale, cercava una donna negli annunci dedicati agli incontri. La donna era invece già stata identificata a Raguse in un'altra casa a luci rossa e chiusa l'anno scorso ed a suo dire era andata via per i troppi controlli, tornando a distanza di un anno sperando che la situazione si fosse calmata. Sono in corso adesso accertamenti sul proprietario di caso, attualmente irriperibile. Una volta convocata in ufficio sarà diffidato dall'affittare casa a prostitute. Anche in questo caso si trovano conferme sul giro d'affari che di rilevante entità. Tutto dipende dalle richieste dei clienti, i prezzi oscillano da 50 a 200 euro, dipende dai gusti. La squadra mobile sta effettuando diverse verifiche sugli immobili segnalati dei cittadini al fine di permettere a tutti gli abitanti delle zone interessate in provincia di non avere problemi nel vivere quotidiano.